L'audienza apre una ferita, lei ha indosso questa maglietta come tutti voi con il volto e immagino di sua figlia? L'onomastico di Valentina, mia figlia, oggi è l'onomastico, il 25 febbraio è il compleanno e vi lascio immaginare come mi sento io e mio marito, ci sentiamo sette anni che stiamo Siamo sempre qui per dare un po' di giustizia per i nostri figli, questo speriamo Come mai Valentina si trovava? Era venuta per un giorno, era venuta il martedì sera e il mercoledì pomeriggio doveva tornare a casa Una collega gli aveva detto che era stata in questo posto, che era meraviglioso e lei è venuta Ci vuole poco a capire come non c'è stata un'interlocuzione, un coordinamento tra le varie autorità per assecondare la volontà dei clienti che volevano andare via e andare via rientra nel contratto alberghiero, è un diritto dell'utente perché non sta in carcere sta in una struttura e quando vuole andare via deve essere assecondato Ma mamma? Comandata adesso signora fa questa parte Grazie.